Grande attesa per il videomessaggio di Papa Francesco per l'appuntamento internazionale dei Economio Francesco che si terrà il prossimo 2 ottobre ad Assisi, in diretta streaming con i giovani collegati dai cinque continenti. Ad oggi sono oltre 30 le città, tra cui Shanghai, Bogotà, Nairobi e Washington, in tutto il mondo che ospiteranno contemporaneamente un evento Economio Francesco. Iniziative che culmineranno nell'incontro online globale della città di San Francesco sul canale YouTube di Economio Francesco. È il secondo appuntamento per imprenditori, economisti e changemakers ideato per condividere percorsi nuovi in attesa di incontrare Papa Francesco ad Assisi nell'autunno del 2022. Confermata la presenza tra gli altri di personalità di fama internazionale con cui i giovani hanno costruito dialoghi fruttuosi in questi mesi. Vandana Shiva, Jennifer Nodelsky, Parta Dasgupta, Sabina Alkain, Ellen Elford e Jeffrey Sachs che sarà presente ad Assisi. Previsto anche il contributo dello scienziato Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio di Neurobiologia Vegetale di Firenze e, secondo il New Yorker, uno dei world changers del pianeta. Per il programma e le modalità per seguire l'evento in diretta consultare i seguenti link. Grazie. 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 Grazie.